Lutiano Lececco, non avete giocato bene però avete vinto? Sì, veramente conta vincere. Mi dispiace perché abbiamo giocato bene, venino e molto male. L'importante è che siamo qualificati dopo tanti anni a questa storica finale di Coppa. Siamo molto contenti anche se non si vede, però realmente siamo anche stanchi. Veniamo delle settimane pesanti, stiamo tenendo duro perché ancora ci alleniamo, non ci siamo neanche fermati. Adesso grazie a Dio non giochiamo a weekend, quindi possiamo fare un bel programma di lavoro. Guazza sta lavorando molto bene con i pesi, quindi speriamo di arrivare contro Cassano che è una partita più importante. Sembrate tutti un po' troppo abbattuti, ci sta una partita giocata non al massimo, specialmente dopo essere arrivati a una partita come quella con Macerata e poi come quella con Modena. Non è una battuta, ci siamo sciolti di un sacco di carica e stress e tutto quello che viene dentro delle partite importanti quando si definono grandi cose. La partita tanto con Macerata come con Modena sono state partite agonisticamente pesanti, con calibri di tensione molto alti, anche se con Macerata non siamo stati molto intranquili, siamo stati più tranquilli del solito, con Modena è stata una partita anche con Cassini di qua e di là. Penso che al scioglierci c'è questo, ovviamente che capita e è capitato in una partita che almeno abbiamo potuto vincere. Speriamo di ricaricarci perché mercoledì c'è la partita più difficile dell'anno e vogliamo portare un bel spettacolo qui perché la gente se lo merita e noi vogliamo fare una bella figura.